Sì, sono qui in diretta da Montesicorio, dico sicorio perché chi le è tutta una comedia è tra Grigli, Griglini e Grafempù, quindi... Una diretta da Tele Vignole, da Roma a Vignole, proprio per dirvi che chi è un gran casino, non è una confusione, questo Parlamento non si va più fuori da niente, chi tutti cacera, inizia la seduta dopo mezz'ora da suspendua, non sono abituati a queste comedia, quindi... Che dirvi? Chi le è in 48? Qui in Roma a voi Tele Vignole, salutemi tutti perché chi conosca il Gia, grazie.